...di più, diveste! Salvo a Torrico, bene, e volate un appello! Abbiamo un po' perso... Siamo, arriva la bomba... Kugel! Venite, venite, venite! Guardate le scenografie! Riuscite a venire su? Ma si mettono qua davanti, attenzione! Sono sotto il palco! Sotto il palco, non so... C'è un po' di casino, oltretutto con i carrettini... Contendo la parte percussione... Percussione è difficile... Ma chi non ha le percussioni può venire sopra, non è problema! Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano! Venite, 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 eh! Vengono posto! Potete venire? Ho distrutto un po' il foglio, Giuliano! No, no! Eccoli che arrivano! Potrebbe... Al brutality di Siocretà... Sotto il palco... Quello che bru modifications... Pall Ward u Lebawa Grazie a tutti e il fu글로 tre successo di Quabin Gesù! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.